Qualcuno le ha chiesto se Roma avrà mai un sindaco della Lega, vuole rispondere da questi microfoni? Se ci chiamano noi ci siamo, a gente ci erano tanti, tra commercianti, taxisti, i dirubani, i passanti. Quindi, dagli è Matteo, vieni a fare il sindaco. Ho detto, ragazzi, faccio il ministro, spero di farlo bene. Però è una città che sicuramente è complicata da governare, governato male in passato. È grossa perché è spesa sette volte Milano. Da Ostia a Torpella Monaca, al Pigneto, al Campidogio ci sono distanze enormi. Però sicuramente ha bisogno di maggior cura, maggior amore, maggior attenzione. Ma pura quotidiana è tutta delle grandi opere, proprio della pulizia, della sistemazione stradale, della cura delle piante, del verde, dei parchi. Però mi è rimasto impresso a Stodaglie e Matteo. Quando c'è il minimo di sonno, ho 20 minuti, farò un appuntamento all'altro, preferisco fare due passi a piedi. Perché la vita reale non è quella dei giornali, dei soldati, dei sociologi. Quindi nella vita reale sono contento dell'affetto che incontro e spero di meritarlo.